Ciao ragazzi, ben tornati in questo nuovissimo video, oggi siamo qui tornati su Fortnite e siamo qui per fare la missione dell'estate di ordinare l'amministrazione Abbiamo la missione oggi di suonare i campanelli finché non si rompono Allora, siccome ci sono 4 case dove possiamo andare a fare questa missione, bisogna suonarlo 3 volte Però noi ne andremo a fare una sola e poi vabbè la missione la completiamo dopo E per farvi vedere come si fa, anche se non credo che sia difficile Mi raccomando però iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate le commentate e condividete il video di tutti i vostri amici Allora, andiamo subito alla casetta in questione, cioè questa qui, però vi faccio vedere anche dove sono le altre Una è a Crocevia, una è a Boschetto e una è questa qua sopra Ma in realtà ce ne sono altre, tutte le case in Twitter dovrebbero avere un campanello Cioè mi ricordo che ce ne sono anche in altre case, però vabbè Andiamo in questa per adesso E dobbiamo suonare il tasto, questo qui sotto Cioè il tasto, sì, ciao Il campanello, vediamo dov'è, eccolo qui Dobbiamo suonarlo finché non si rompe Così, continuate a cliccare E si è rotto E te che cosa vuoi da me? Via, via! Ok Fox23508296, ciao Alla prossima Quindi la missione si fa in questo modo Suonando il campanello che ho già rotto Quindi Manu non potrà farla Addio E niente Fatemi sapere nei commenti ce l'avete fatta Noi ci vi chiediamo nel prossimo video Bella Ciao 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 Ciao